La Russia potrebbe tornare a negoziare con l'Ucraina, lo avrebbe ammesso il presidente russo Vladimir Putin durante colloquio con il turco Erdogan a Samarkand, lo ha riferito il ministro degli esseri di Ankara, Mevlut Kavuzoglu. Sono più di 2300 le persone arrestate a causa delle proteste registrate in Russia a seguito della mobilitazione militare decretata da Putin il 21 settembre. E intanto il governo del Giappone ha approvato un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia in cui vieta l'esportazione di merci collegate alla fabbricazione di armi chimica.